L'impresa di Venceslao di Persio è un'impresa fondamentale perché porta un grande museo dell'Ottocento in una città che grazie all'annunzio meritava di averlo, ma in secondo luogo con la latitanza della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma è il più importante museo dell'Ottocento dell'Italia centrale, quindi non solo Michetti ma tanti altri maestri venderanno Pescara il luogo necessario per conoscere la pittura dell'Ottocento italiano e non solo italiano.